SIS da quasi 80 anni è leader nel frumento duro e tenero con un catalogo più ampio e completo disponibile in italia copre una percentuale molto importante del mercato e continua a investire sempre più nella ricerca rinnovando continuamente il catalogo con materiali dotati di potenziali produttivi sempre più elevati e caratteristiche tecnologiche adeguate a soddisfare le diverse destinazioni d'uso del cereale che è una materia prima fondamentale nell'alimentazione umana. Uno degli ultimi esempi di questo continuo lavoro di miglioramento genetico è la novità Frida. Frida esplica perfettamente l'attività di breeding che attinge il massimo potenziale produttivo dei materiali tardivi e molto tardivi e lo innestra su materiali di ciclo tenuta agronomica più adatti ai nostri ambienti. Frida è quindi una varietà di ciclo medio in grado di raggiungere però la potenzialità produttiva dei più tardivi e il nuovo riferimento per resa ed attività ai più disparati ambienti per garantire una grande stabilità produttiva. Caratterizzato da un W compreso tra i 170 e i 200, un P su L tra 0,6 e 0,7 e un peso di mille semi intorno ai 47,5 grammi, una gardella rossa di consistenza medium con un ottimo peso etrolitrico, la grande capacità del cestimento della varietà e la sua perfetta tenuta di pianza associate a una buona tolleranza alle malattie lo rendono perfetto per qualsiasi reale e per qualsiasi tecnica di coltivazione.